Bentornati al caffettino, buongiorno, sono Mario Moroni, non so quando mi state ascoltando, magari potete taggarmi le stories dicendo vi sto ascoltando adesso, alla mattina, alla sera, insomma oggi vorrei parlare di voi, innanzitutto come state? Tutto bene? Dai, quasi finita la settimana, tutto a posto, forza e coraggio, amo il giovedì ma amo anche e soprattutto montare i miei audio, i miei podcast e anche i miei video. Cioè oggi vorrei proprio parlare di questa cosa, di che fortuna ha una persona quando conosce, sa bene come montare i propri contenuti, come toccarli, come sistemarli, sì perché si arriva a un certo livello, io ancora non ci sono arrivato, di non avere il tempo e la possibilità o anche tecnicamente la incapacità di poter montare un prodotto più o meno di qualità. E per cui uno dei ragionamenti che oggi facevo è quanto è bello e normale, secondo me per un professionista, uno startup, un imprenditore, saper montare anche in maniera basilare i propri contenuti. Per questo motivo vorrei condividere con voi le tre motivazioni che mi portano tutti i giorni a montare da solo, a tagliare, a copiare, a sistemare e a migliorare da solo i miei contenuti. Sei pronto? Partiamo! La prima motivazione è perché così imparo, non soltanto imparo a montare meglio giorno per giorno, settimana per settimana, mese per mese, perché in realtà riesco a imparare anche a come fare il contenuto. Per esempio questo audio lo sto facendo con delle pause, tagliando magari i pezzettini in cui magari sono più scarico e quindi sto imparando, montando quest'audio, a fare anche la registrazione, perché a questo punto sono indipendente e quindi riesco in qualche maniera ad anticipare i possibili errori. La seconda motivazione è perché cambiano le piattaforme ma non cambia la grammatica e quindi fondamentalmente cambieranno le piattaforme, saranno audio più lunghi, più brevi, video quadrati, verticali, in 3D eccetera eccetera, ma la grammatica della cazzazione dei contenuti per gli imprenditori e per i professionisti non cambia. Cioè sappiamo creare un contenuto vuol dire che sappiamo montarlo e vuol dire che dietro c'è una grammatica che abbiamo acquisito. E il terzo punto è perché è veloce. Sembrerà scontato ma man mano che impariamo a montare un contenuto diventiamo più veloci. Quindi poi immaginate se dovessi mandare quest'audio a un mio collaboratore. Gli dovrei spiegare come voglio tagliarlo, come di solito voglio utilizzare la ritmica, che volumi sulle basi e i test chi li fa? Invece qua posso fare come voglio, posso provare, posso magari dare un po' più di bassi, posso tagliare e vedere subito il giorno dopo. Se dovessi mandare l'audio dovrei sicuramente registrare almeno un giorno prima e non alle 7 e mezza come tutti i giorni per il caffettino. Insomma sarebbe molto più lungo e dispendioso anche a livello di tempo, oltre che chiaramente a livello economico. Ma il punto è questo, siamo più veloci. Per concludere, chiaramente come avete capito sono assolutamente una persona che vuole montare indipendentemente i propri contenuti. Finché ci sarà la possibilità lo farò. Questa è una delle tematiche che tra l'altro sto trattando nella mia masterclass www.mariomoroni.it slash masterclass, lì trovate tutte le informazioni, un mese di formazione insieme. Ogni settimana vi rilascio un contenuto con gli esercizi, con un po' di attività da fare. E per cui se vi va di imparare a creare contenuti, migliorare, scoprire il mondo del video, l'audio, il podcast e tutto questo per chiaramente attrarre clienti per la vostra startup, la vostra impresa o la vostra attività da professionista mi trovate lì, altrimenti sui social fatemi sapere cosa ne pensate e soprattutto fatemi sapere quando mi ascoltate. Sarebbe bello, assolutamente, tagliare i momenti della giornata. A proposito di fate i bravi, mangiate le verdure, mi raccomando, anche domani è venerdì. Ciao!